Sappiamo che il tema dei prossimi decenni è quello della people scarcity, per cui mancano proprio le persone. È un must, ormai è un obbligo valorizzare la popolazione senior in azienda. È anche dettato dalla maggiore complessità del mondo del lavoro e complessità anche proprio del lavoro concreto che c'è nelle aziende. I progetti complessi aumentano di numero, le negoziazioni complesse, per cui la seniority e l'esperienza è un bisogno, le figure senior vanno valorizzate. La formazione va bene, ma la persona formata da sola non sa rientrare nel mondo del lavoro, per cui le due cose andrebbero sempre coniugate, formazione e supporto alla ricollocazione, cosa che non è spesso. Le misure pubbliche ci sono. C'è un tema di non incontro che deriva da tre fattori, su cui noi chiediamo una riflessione, un progetto strutturato di riflessione. Da una parte è proprio l'allargamento dello scopo, la semplificazione di accesso. Le aziende quasi sempre non riescono da sole a compilare la domanda e soprattutto, questo lo sottolineiamo, rapidità di approvazione. Se l'approvazione non è quasi istantanea, diventa inutile poi tutto l'intervento.